Ciao! Allora, outfit di oggi è sabato pomeriggio, stiamo andando a fare un geretto fuori per negozi, tra virgolette, comunque vabbè, sabato pomeriggio è un giorno diverso dagli altri. Allora, outfit di oggi, oggi fa abbastanza caldo, quindi ho messo via i miei stivali, quelli di pelo, visto che molti di voi hanno detto ma non c'è caldo, sei esagerata, vabbè. Allora, oggi ho questi qui, che sono dei carinissimi indianini, stivaletti indianini, eccoli qua. Questi qui, vedete, sono color cammello, bassi bassi, questi sono in vero camoscio, tutti cuciti a mano, questi ce li ho da qualche anno, sarà da 3-4 anni, e sono gelosissima di questi stivaletti, li tengo proprio come un tesoro. Li ho anche pagati, insomma, abbastanza, penso di averli, oddio, abbastanza, per essere di vero camoscio, non è che li ho pagati tantissimi, avevo pagati una cinquantina di euro. Questi li avevo presi in piazzola a Bologna, qualche anno fa, c'è un banco bellissimo di scarpe, tutte di vera pelle, vero camoscio. Sono stracomodi, vedete, ho queste nappine davanti, le frange. Ho i miei stivali, quelli blu stretti stretti, come al solito. Poi ho questo maglioncino, aspettate, eh. Questo maglioncino misto lana a cotone, che è tipo color rosa cipria, maniche lunghe con lo scollo a V. Io ho questa specie di giacchettino coprispalle, vedete, sembra tipo fatto maglia. Non è di lana, è tipo un sintetico, ma tiene parecchio caldo, comunque. E direi per il pomeriggio va bene, poi per la sera sicuramente metterò, toglierò questa e metterò una giacca più pesante, però per il pomeriggio direi che va bene. Poi, niente, ho questa borsa qui, che non è proprio, proprio, come vedete, uguale, uguale agli stivali. Una borsa uguale, uguale, non ce l'ho. Però questa qui mi piace un sacco, perché anche questa, vedete, ha una nappina qui. E ha queste borchie dorate, fatta così. Anche questa ce l'ho da un po' di anni e l'avevo comprata al negozio Globo, che vende scarpe, vestite, un po' di tutto. Questa è finta pelle, è sintetico. E poi, che altro dire, ho questo smalto oggi, che è quello della Kiko, il 300, non mi ricordo. Comunque è un colore lilla, comunque è uscito l'anno scorso. E se a qualcuno interessa lo scambio volentieri, perché è un gran bel colore, a me non mi ci vedo proprio questo colore, non c'è niente da fare, l'ho usato due volte. Come trucco, ho usato questi due ombretti della Meo Cosmetics, che sarebbero due illuminanti. Però, come vi ho già detto, li uso come ombretti. Se vi interessano vi lascio il link al video qui sotto dove vi faccio vedere i colori. Sono tipo una rosa cipria e una specie di marroncino dorato. E ho messo questo rossetto di Essence, un rossetto che è più una specie di gloss, che è lo Sparkling Angel 03, molto molto carino. Eccolo. E' pieno pieno di glitterini. E oggi, per il primo giorno, ho rimesso il fondotinta minerale, perché fa già abbastanza caldino, e col fondo fluido di Lugona ho un po' caldo, tendo un pochino a sudare. Quindi, primo giorno di fondotinta minerale. Niente, spero che questo mio outfit vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!